Sì, sei costretto da regolamenti. 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 Allerio. 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 Sotto, sempre sotto. 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 Quattro. Quattro. Sotto, sempre sotto. 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 Faccio sotto. alcanzo sotto. Sotto, sempre dopo. Sentamosmo. Grazie. 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 Meno mai che l'avevi tagliato. Ui. Se leca il pezzo. Sì, non si può fare questo tiro al baco, parte fuori. Sì, non si può fare questo tiro. Sì, non si può fare questo tiro al baco. Sì, non si può fare questo tiro al baco. Sì, non si può fare questo tiro. Sì, non si può fare questo tiro. Sì, non si può fare questo tiro al baco. Sì, non si può fare questo tiro al baco. Grazie. 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 Buonanotte a tutti. Grazie. Grazie.